Ciao, sono Valentina e in questo video ti voglio parlare della pecora nera del processo di manifestazione, ossia di quell'elemento che tutti mettiamo in gioco, soprattutto all'inizio, che blocca, rallenta, devia la nostra manifestazione e che è veramente molto importante che teniamo in considerazione. Te ne parlo proprio in questo video e ti mostro anche come evitarlo. Il processo di manifestazione, come tutti i processi, ha al suo interno anche degli elementi che possiamo considerare, almeno io considero, la pecora nera all'interno del processo. Ora, in realtà questa pecora nera è un aspetto molto molto importante da tenere in considerazione quando si vuole praticare la manifestazione consapevole, e però, ahimè, è anche qualcosa di molto comune, nel senso che in un modo o nell'altro tutti incappiamo in questa pecora nera. E adesso te ne parlo. Prima ti ricordo che se sei nuova in questo canale e se ti stai approcciando per la prima volta magari a questi argomenti, ho preparato una risorsa gratuita per te in cui ti parlo dei primi cinque passi importantissimi da intraprendere quando si vuole iniziare a manifestare in modo consapevole e lo puoi trovare nel link qui sotto. Ma torniamo a noi, parliamo appunto di questa pecora nera. Allora, uno degli elementi, possiamo dire, più appunto pericolosi, che, come dicevo prima, tutti mettiamo in atto quando iniziamo a manifestare consapevolmente, ma ti dirò, alle volte poi può capitare, non solo all'inizio, ci si può ricadere ogni tanto, ma chiaramente sapendo come evitare questa pecora nera, e te ne parlerò in modo anche pratico all'interno di questo video, ti darò un consiglio pratico, è qualcosa che possiamo perfettamente arginare. Comunque, come dicevo, uno degli elementi principali che tutti quanti mettiamo in gioco, e che è anche la nostra pecora nera, è l'attaccamento al risultato. Ripeto, l'attaccamento al risultato. Che cosa significa? Significa che noi pratichiamo, o comunque in generale poi anche viviamo, avendo degli obiettivi, desiderando delle cose. Delle cose, delle persone, delle emozioni, del tipo di vita, tutto. Ok? Qualcosa che pensiamo che ci renda felice. Il problema qual è? Quando questo è inserito all'interno degli argomenti che trattiamo qui, quindi del processo di manifestazione, è che questo grande desiderio di raggiungere il risultato, per esempio avere una nuova relazione, magari sono anni che siamo single, o che abbiamo relazioni che vanno male, o magari desideriamo una relazione con una persona specifica, ok? Quando noi desideriamo tanto questo risultato, è molto facile che cadiamo nell'attaccamento. Nell'attaccamento al risultato che diventa quasi ossessivo. Quindi ci concentriamo maggiormente sul fatto che non abbiamo ancora raggiunto quel risultato, che sul alimentare all'interno della nostra realtà interna e nelle nostre credenze, quindi nella nostra programmazione mentale, il godimento e il benessere del risultato che potenzialmente ci potrebbe dare, perché di fatto ancora non lo sappiamo, ma lo desideriamo. Quindi lo desideriamo molto, ma continuiamo a pensare che non c'è, che questo risultato non ce l'abbiamo. Quindi magari pratichiamo, anche la pratica, no? Questa che insegno io all'interno del processo. Come dico sempre, all'inizio chiaramente è qualcosa che mettiamo in atto, in modo, come dire, perché appunto è una pratica, quindi lo facciamo, non dico in modo meccanico, però ci dobbiamo impegnare. Ma poi in realtà tutto quello che anche appunto il non attaccamento ha a che fare con l'avere, la credenza e la consapevolezza dentro di noi che quel risultato è già raggiunto. Il famoso vivere nel desiderio realizzato di Neville Goddard ti dice, connesso poi alla legge di assunzione, di assumere, di essere già in quel risultato, in quel desiderio realizzato. È chiaro che se noi ragioniamo in questa ottica, l'attaccamento decade completamente, perché io sono già là, ho già la certezza. Quindi non mi soffermo sull'assenza del risultato raggiunto, perché vivo nel desiderio realizzato. Tutto questo ha un suo senso, è chiaro che perde completamente di senso se siamo persone che fanno riferimento a se stessi, a tutto quello che gli accada, accade solo osservando la realtà esterna e le circostanze esterne, perché alle volte le circostanze esterne non sono quello che noi vogliamo, non riflettono ciò che noi vogliamo, ma riflettono ciò che noi siamo. È per questo che all'interno del processo di manifestazione, per esempio, si lavora sul discorso dell'attaccamento e quindi su questo fatto di vivere dalla prospettiva di colei che non ha raggiunto, che non ha ancora quei risultati, anziché vivere dalla prospettiva di colei che ha già ciò che desidera adesso, perché questo elemento fa la totale differenza poi in quello che noi manifestiamo e che andiamo a riflettere. Per cui ricordati sempre questo elemento della pecora nera, disgraziata, che poi voglio dire, è in realtà una fase necessaria da attraversare. L'attaccamento barra ossessione al risultato, quindi magari stai cercando di manifestare una persona specifica e vai via di testa ogni giorno, ogni mattina, perché controlli sui social cosa fa, cosa non fa, perché stai male a ripensare ai bei tempi, perché ti chiedi continuamente cosa sta facendo, sarà con un'altra o con un altro non mi vorrà più. Ecco, questo è attaccamento. Cioè, quando tu impieghi più del 50%, che è già tanto, del tuo tempo, pensando a qualcun altro anziché a te stessa, già stiamo cadendo un po' nell'attaccamento, ok? Soprattutto se sono cose negative che ti fanno stare male. Poi, metti che le cose positive vanno sempre bene. Cioè, tutto quello che ci fa stare bene, fa bene. Tutto quello che però ci fa stare male, no. Quindi attenzione all'attaccamento. Ripeto, quando capire se è attaccamento o meno? Quando stai male. Quando certi pensieri ossessivi continuano, continuano e continuano a farti stare in uno stato di mancanza, e ti fanno stare male. e lavora su questo attaccamento. E qui arriviamo a come puoi, per esempio, lavorare all'attaccamento. Ecco, secondo me, una tecnica, chiamiamola così, molto semplice, che mi è stata fondamentale, e ancora oggi la uso sempre, è iniziare ad abituare la nostra mente a questo concetto. Allora, io voglio quella persona specifica. La realtà esterna mi sta mostrando altre cose. Vedo che mi accorgo che sono in una fase di attaccamento da uno stato di mancanza. E cosa faccio? Bene. Dichiaro dentro di me, nella mia realtà interna, e quindi anche all'universo, io dichiaro che la mia preferenza è quella persona specifica, o quel determinata situazione, o quel determinato lavoro, o qualsiasi cosa sia la tua preferenza, è la mia preferenza, o qualcosa di meglio. Dire a te stessa questo fa la differenza e ti permette di scollinare un po' il discorso dell'attaccamento. Perché? Perché io sì voglio quella persona lì, o quel fatto, o quella casa, o qualsiasi cosa, o qualcosa di meglio. Quindi lascio aperto uno spazio a qualcosa di meglio. Questo è molto, molto importante, perché ci permette di spostare l'attenzione dall'attaccamento al risultato. Questo attaccamento c'è perché non c'è quella persona lì, per esempio, sempre tornando su questo esempio, ma anche perché pensiamo che se non c'è quella persona lì, non ci sarà niente nella nostra esistenza, o sarà tutto peggio. Ed è per questo che la formula, o qualcosa di meglio, aiuta la nostra mente ad abituarsi a qualcosa di più ampio, che sarà sempre il top per noi, sarà sempre il massimo. dobbiamo pensare che quando sarà quella cosa lì, il qualcosa di meglio, saremo felici, più felici di adesso. Non è qualcosa che andrà, perché alle volte l'attaccamento ce l'abbiamo, pensando, soprattutto in ambito sentimentale, che se mi dimentico di quella persona lì, non sarò mai più felice, e si confonde il non attaccamento con il dimenticarsi di quella persona. Invece il non attaccamento è il non attaccamento al dubbio che possa accadere. E questo è il non attaccamento. Ed è per questo che trasportare la nostra mente sul dire è vero che voglio, quella è la mia preferenza, o qualcosa di meglio, in modo tale da non cadere nell'ossessione. quindi fai molto attenzione anche tu se per caso stai mettendo in atto questa pecora nera all'interno del processo e cerca di andare oltre provando anche questa formula che ti ho consigliato in questo video. Ti ringrazio moltissimo per essere stata qui con me, come sempre un grandissimo piacere e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!